Buongiorno a tutti, eccoci tornati con un'altra live, oggi siamo in Spagna con una Rally GT una categoria un po' particolare che c'è su Dirt 2.0 abbastanza inquidabile ma divertente poi su questo asfalto spagnolo ci sarà di divertirsi e poi guardate che bella questa Porsche e che belli questi fari notturna ovviamente noi non abbiamo potenziamenti quindi una macchina di scatola quindi un po' non sarà facilissimo tenerla in strada già difficile di suo però come al solito accettiamo la sfida inizia 70, grinale piatto, 80, 6 destra, buona fortuna il nostro obiettivo è entrare i primi mille come sempre sembra una scioccazza ma non c'è 5, 4, 3, 2, 1 via 70, grinale piatto, 80, 6 destra, 30, 6 sinistra lunga, stringe in 6 destra lunga su crinale, 50, 6 sinistra lunga, apre su crinale, 50 5 sinistra lunga, 50, 5 sinistra lunga, 100, 4 destra molto lunga, apre 100, rallenta, tieni il centro su crinale, 5 sinistra stringe 50, 6 sinistra lunga, 150 bisogna avanzare in strada significa perquè no things i muretti in questa cazzo pista guarda una balla 30, 4 sinistra tieni la sinistra su 150 taglia 5 destra tieni la destra su 150 5 sinistra lunga apri su crinale in 4 destra lunga su crinale in 4 sinistra lunga su crinale rallenta 30, 2 destra 30, 4 destra tieni la sinistra su 30 3 destra stringe in 4 sinistra in 5 destra cavallo pazzo di tempo in 5 destra in 3 sinistra stringe 30, 6 destra apri su lunga crinale 30, 4 destra lunga 30 5 sinistra lunga in attenzione 3 destra stringe in 5 destra in 4 sinistra lunga tieni la destra su crinale 5 sinistra in 6 destra in 2 sinistra stringe in 4 destra lunga stringe 2 lunga apri tieni la destra su 50 in 6 destra in 3 destra in 3 destra in 3 destra stringe in 4 sinistra 50 2 destra lunga stringe su crinale in 2 sinistra stringe in 2 destra lunga apre 30 questa è sfiga come fa per castrare diciamo che questo misto senza assetto delirio però ho perso mille ore in 2 sinistra stringe in 1 destra lunga apre 50 tieni la destra su 5 sinistra in 4 destra tieni la sinistra su 60 4 destra molto lunga apre 30 5 destra su crinale 3 sinistra lunga in 5 destra in 3 sinistra lunga stringe 2 in 6 destra molto molto lunga stringe 4 lunga in 6 sinistra in 6 sinistra in 4 destra 50 su crinale 3 sinistra stringe in 4 destra 100 2 sinistra 2 sinistra molto lunga 2 sinistra apre e stringe in 4 destra lunga in 2 sinistra 2 sinistra tieni la destra su 20 6 sinistra in 5 destra lunga stringe apre lunga 80 5 sinistra molto lunga in 4 destra in 2 sinistra stringe in attenzione 2 destra stringe 2 sinistra tieni la sinistra su 100 su crinale 6 destra lunga 150 5 destra taglia in 6 sinistra in 5 destra lunga 120 6 destra 50 4 sinistra stringe in 6 destra lunga apre 60 4 sinistra taglia molto in destra lunga apre stretta 4 destra stretta su 4 sinistra 5 destra taglia molto in 4 sinistra lunga 50 2 destra lunga 60 attenzione non tagliare 2 sinistra lunga 2 destra molto lunga 30 attenzione 5 sinistra lunga stringe 3 30 6 destra lunga su traguardo 80 allo stop ok ragazzi ovviamente senza set senza niente ecco vabbiamo in bizarrito poi mi si è girato mi si è incastrato la tappa è stata dura ma è sembrata veloce come al solito è una prova alla prossima gara con dirt 2 stanzi 2.0 per oggi è tutto grazie come al solito di seguirmi iscrivetevi al canale mettete un like se vi ci voglio dare anche va bene se vi vedete però sono qua per migliorare e alla prossima ciao